Benché sia una delle città italiane più vecchie, parlando di età media della popolazione residente, da un altro punto di vista, cioè da quello della popolazione non residente, Pisa è una delle città più giovani d'Italia. Lo è per via della popolazione di studenti e di militari. 50.000 ragazzi iscritti nelle sue prestigiose università, sempre i primi posti nelle classifiche internazionali dei migliori centri universitari del mondo. E poi ci sono le caserme, perché Pisa ha da sempre grandi tradizioni militari. La città toscana ospita la 46esima brigata aerea e il centro addestramento di paracadutismo della brigata paracadutisti Folgore presso la caserma Gamerra. Ci sono poi le caserme che ospitano il sesto reggimento di manovra e il centro di addestramento del nono reggimento d'assalto paracadutisti Colmoskin. Non è finita. C'è persino la base di addestramento dei GIS. E vicino a Pisa, a Tirrenia, c'è la base militare americana di Cam Derby, una delle più grandi d'Europa. Nella tenuta di San Rossore è presente anche il corpo forestale dello Stato. Insomma, se Pisa è la città italiana più fotografata dai turisti su Instagram, con la sua torre, le sue bellezze medievali e rinascimentali, se dal punto di vista demografico è una città di residenti parecchio sud-età, dall'altro punto di vista è una città internazionale, zeppa di giovani studenti e di giovani militari. Cuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana, tra poco nell'offerta noi piomberemo giù, pugnale e bombe a mano, viatico di morte e l'ansia della sorte non sentiremo più. Questa che vi ho recitato non è la sigla di un cartone animato giapponese con i robottoni, ma l'inno della brigata paracadutisti Folgore con il testo originale. È l'unità aviotrasportata dell'esercito italiano, istituita a Pisa nel 1963 con il quartiere generale a Livorno, caserma in Toscana e con l'ottavo reggimento guastatori paracadutisti a Legnago e con il centottantacinquesimo reggimento artiglieria paracadutisti a Bracciano. Sono altamente addestrati i parà abili ed efficienti, ma si portano dietro una brutta fama. Anche ai tempi della leva obbligatoria la Folgore attirava non solo chi era desideroso di provare l'ebbrezza del salto nel vuoto, ma anche e soprattutto tutti i fascisti d'Italia. Secondo Charles Barnau, sociologo dell'Università di Catanzaro, ex paracadutista e autore di studi etnografici sulle forze armate, intervistato da Weiss, si tratterebbe di un sistema frutto di un modello educativo che mira la formazione di personalità autoritarie e fasciste. Addestramenti estenuanti, gerarchie granitiche, punizioni fisiche per qualsiasi mancanza, obbedienza cieca agli anziani. Non credo che ci sia da stupirsi se su molti dei siti dedicati alla Folgore saltano fuori, ogni due per tre, le foto di Mussolini. La Folgore è in prima fila in tutte le operazioni di peacekeeping dove il nostro paese è impegnato. Il 17 settembre 2009, un attentatore suicida, alla guida di un'auto imbottita con 150 kg di esplosivo, si è fatto esplodere contro un convoglio di ritorno dall'aeroporto di Kabul, causando la morte di sei paracadutisti che si trovavano sui due blindati lince. Nel 1999, quando si svolgono i fatti che vi stiamo per raccontare nel battaglione della Folgore, sono tutti uomini. Le prime donne nell'esercito sono entrate già sette anni fa, ma i paracadutisti le stanno ancora aspettando. La prima a Pisa arriverà tra due anni, nel 2001, e chissà fosse arrivata prima tutto quello che vi stiamo per raccontare non sarebbe successo. Una donna avrebbe potuto iniettare un dubbio in oculare il germe del pensiero diverso, avrebbe potuto girare lo specchio con cui si colora le labbra verso quel gruppo di maschi a caccia di un'identità forte, e loro, i maschi della camerata, messi di fronte allo specchietto del Rimmel, avrebbero scoperto il loro lato debole e in un sussulto di coscienza ne avrebbero tratto la forza per fermare la triste storia che vi stiamo per raccontare. È una storia per soli uomini che vivono in caserma. La caserma Gamera di Pisa, dove arriva il 26enne Emanuele Sceri dopo il CAR, è una caserma di addestramento. In pratica ci si entra che si è delle burbe, delle spine, o come si chiamano adesso le reclute, e si esce parà, fatti e finiti. In mezzo c'è un addestramento durissimo. Oltre all'intensa attività fisica, le reclute imparano l'impiego delle armi e fanno pratica di tiro, la sopravvivenza sul campo di battaglia, il movimento tattico e lo sfruttamento del terreno, il superamento di ostacoli naturali e il riordino a seguito di aviolancio simulato, la topografia e navigazione terrestre con marce topografiche di crescente impegno, tattiche procedure della squadra fucilieri in difesa e in attacco, eccetera, eccetera, eccetera. Si fanno i muscoli, si impara a lanciarsi e si costruisce lo spirito di corpo. E come si costruisce lo spirito di corpo con il rispetto per gli anziani, quello che fuori dalle caserme viene chiamato nonnismo. I nuovi arrivati non contano nulla, se fanno cadere il basco devono pompare a terra tenendolo in bocca, pompare vuol dire fare flessioni sulle braccia, sono discriminati se omosessuali, devono sottoporsi a giochetti di sottomissione. Ai miei tempi i giochetti più diffusi nelle caserme, non solo in quelle dei parà, erano il cucù, con la recluta nuda su un armadietto a gridare le ore, i gavettoni di acqua e piscio mentre la recluta dormiva, il jukebox con la recluta chiusa in un armadio costretto a cantare a richiesta in cambio di una moneta, lo sbrandamento, la pulizia dei cessi con lo spazzolino da denti, la schiuma sulle parti intime, l'obbligo di immobilizzarsi come statue allo schiocco di dita dell'anziano. Un prezzo da pagare alto per l'addestramento, ma dopo, quando si torna a casa, si torna a casa da veri uomini, se si sopravvive. Veniamo dall'inferno e andremo in paradiso, bombe a mano e carezze col pugnato, bombo, bombe a mano e carezze col pugnato.